un saluto da ivan di pacodigit oggi facciamo conoscenza con il nuovo momo design md smart un telefono prodotto da zte e commercializzato proprio in questi giorni dal gestore telefonico 3 anticipo subito alcune delle conclusioni che di solito mi riservo per la fine della della mia chiacchierata trovo che questo dispositivo sia uno di quelli che di più merita di essere chiamato smartphone un telefono che oggi viene lanciato sul mercato con un prezzo quasi incredibile 60 euro legati anche a una proposta commerciale di tre piuttosto interessante e un telefono che comunque rinchiude dentro di sé quasi tutte le caratteristiche di utilizzo comune anche di uno smartphone con costi e prestazioni nettamente superiori a questo vediamolo subito caratterizzato da un design un po un po rotondeggiante un dispositivo anche piuttosto piccolo da maneggiare ma comunque molto leggero la parte frontale è sostanzialmente occupata da questo display con diagonale da 2,8 pollici un display tft con la più classica delle risoluzioni per questi dispositivi mobili la quarter vga quindi 240 x 320 pixel il display naturalmente è un display capacitivo multi touch che funziona piuttosto bene nella parte bassa abbiamo un tasto fisico che è il classico tasto home di android tasto di ricerca della lente tasto del menu contestuale e il tasto di ritorno abbiamo poi una foto videocamera frontale che permette di eseguire anche videochiamate capsule auricolari sensori di luminosità di prossimità negati sotto il vetro nella parte destra del telefono abbiamo il pulsantino per comandare il volume non c'è nulla nella parte bassa nella parte sinistra abbiamo la presa micro usb per ricaricare ricaricare e connettere il nostro telefono tasto di accensione e il jack da 3 mm e mezzo per le cuffie la parte posteriore prevede questo coperchio di plastica lucida ma comunque molto gradevole al tatto e mi sembra anche discretamente resistente con una fotocamera da 2 megapixel quindi una fotocamera diciamo abbastanza modesta ma che va secondo me accontestualizzata con il tipo di telefono e con il prezzo che ci viene richiesto per questa fotocamera una fotocamera che naturalmente ci permette di portare a casa gli scatti ma non aspettiamoci molto di più di di questo vediamo una cosa carina che ho trovato un po originale rispetto al solito è anche lo sblocco non c'è non è presente il lo slide che siamo abituati a trovare bisogna tenere premuto su questo questo cerchio che ci viene proposto per sbloccare il nostro il nostro telefono le dimensioni del telefono sono 104 x 56.8 di larghezza per 13,3 mm di spessore devo dire che lo spessore anche se dichiarato è abbastanza importante sembra inferiore probabilmente per via di queste forme così sinuose non dà questa sensazione di di essere così così spesso probabilmente i 13 mm 3 sono nella nella sporgenza massima il peso è ridotto il in soltanto 105 grammi parlando brevemente dell'hardware il telefono monta un processore da 800 megahertz che comunque fa girare il sistema in maniera estremamente reattiva 256 mega di ram ho letto nelle pubblicazioni ufficiali che vengono dichiarati 50 mega di memoria interni in realtà andando a fare l'analisi interna del telefono me ne risultano oltre 150 liberi all'accensione parlo della memoria fisica non della memoria ram quindi diciamo che il quantitativo pur non essendo esagerato ci permetterà di di archiviare programmi e dati in maniera direi sufficiente per questo tipo di dispositivo la memoria fisica è anche espandibile per fortuna la troviamo ancora su alcuni terminali tramite una scheda una scheda micro sd una cosa interessante che ho trovato in giro che secondo me è uno degli elementi peculiari di questo telefono è anche la velocità di scambio dei dati abbiamo un 7.2 megabit in download e un 5.76 in upload quindi direi che è molto interessante anche questa velocità di scambio dati naturalmente ho dimenticato di dire prima lo davo per scontato che questa offerta commerciale legata a questo telefono prevede che questo telefono sia bloccato sul sull'operatore sull'operatore 3 quindi funziona con sim della della 3 vediamo un pochino qualche caratteristica la parte telefonica direi che è piuttosto interessante prima di tutto perché incorpora la ricerca intelligente dei contatti cosa che non è così usuale trovare anche su telefoni di fascia un pochino più alta e funziona piuttosto bene direi anche piuttosto interessante proprio la parte telefonica di se stessa con una ricezione assolutamente nella media con una capsula auricolare che regala un volume piuttosto alto che forse è un pochino deficitaria nella qualità del suono stesso che mi sembra un filino un filino metallico rispetto ad altri telefoni funziona piuttosto bene anche il reparto viva voce la parte grafica dell'interfaccia è abbastanza consueta per android abbiamo il tastierino l'elenco delle chiamate i contatti e la casella dei preferiti andiamo un attimo vedere anche il browser vediamo di inserire il nostro eccolo qui il nostro pacco digit ecco questa è un'altra di quelle caratteristiche che anche se dovrei esserci abituato continua a stupirmi soprattutto quando provo telefoni di cosiddetta fascia bassa io trovo che il browser di questo telefono sia veramente molto molto valido tralasciando quelle classiche considerazioni legate al fatto che la velocità del processore non consente la certificazione del flash player in versione full che quindi esiste qualche limite da da questo punto di vista la velocità però di caricamento della pagina la godibilità della pagina stessa secondo me è veramente di altissimo livello anche in relazione al fatto che abbiamo un display comunque di dimensioni non esattamente generose è un 2.8 pollici e che anche la risoluzione non è non è delle migliori stiamo parlando di una di una quarter vga io trovo che comunque su un dispositivo di questo tipo adesso c'è qualche piccolo rallentamento che ogni tanto può capitare ma sono fatti veramente sporadici ripeto quando analizziamo questi telefoni ricordiamoci anche quanto costano ora stiamo parlando di questo ma mi è capitato in passato di provare altri telefoni da 80 90 euro io penso che meritano veramente la lode per come certamente merito in primis del buon funzionamento del sistema operativo ma comunque c'è un'ottimizzazione in tutto quello che viene fatto per come ci venga concesso di navigare in internet comunque con un dispositivo che accettiamo come di modeste di modeste capacità quindi direi che va assolutamente bene abbiamo schiacciato adesso il tasto home andiamo a vedere la lista dei programmi possiamo vedere già da qui il fatto che questo telefono appartenga alla famiglia di tre anche con alcune incone dedicate abbiamo l'app store di tre dove possiamo scaricare alcuni contenuti abbiamo un file manager integrato il client facebook già integrato possibilità di accedere al canale tv mobile di tre direttamente dal dal nostro telefono il navigatore gratuito abbiamo anche la radio la radio fm io l'interfaccia è un'interfaccia che come si può vedere ha una personalizzazione del produttore per quanto riguarda gli sfondi ma possono essere naturalmente tutti quanti modificate l'interfaccia può essere al solito personalizzata con i widget con i collegamenti più disparati il telefono ne ha già molti integrati se non siamo soddisfatti ci basterà accedere al market o al google play come si chiama oggi per poter scaricare qualsiasi tipo di contenuto io direi che possiamo anche fermarci qui relativamente a questa prova un telefono che ribadisco a un costo di acquisto veramente irrisorio e che regala a mio giudizio molto di più del del suo valore lo trovo anche molto carino esteticamente sarà disponibile anzi è disponibile sia in bianco che in un bel verde molto molto bene anche quello da vedere quindi un telefono che mi sento assolutamente di consigliare trovo che sia veramente una quadratura del cerchio una delle migliori che ci sono in giro in questa fascia di mercato bene vi ringrazio per l'attenzione e un saluto da ivan